Ciao a tutti, sono Valerio Novara di Feige Network, oggi vi parlo di un film danese che mi è piaciuto tantissimo e che ha vinto Miglior Film Internazionale agli Oscar, agli ultimi Oscar, che è Un altro Giro, Another Round, di Thomas Vinterberg. Tra l'altro questo film era stato anche candidato ai Golden Globes, solo che c'era Minari nella categoria Miglior Film Straniero, quindi si è trovato di fronte a Minari, ma avrebbe sicuramente vinto se in quella categoria non ci fosse stato Minari, quindi c'è stata anche questa grossa differenza tra i due eventi. Tra l'altro agli Oscar, Vinterberg ha fatto un grande discorso, il regista del film ha fatto un grande discorso, di cui parleremo tra poco. Il film si intitola Un altro Giro, Another Round, e parla di quattro insegnanti, quattro amici di mezza età che decidono una sera di uscire, vivono una vita assolutamente normale, una vita in famiglia, una vita anche monotona se vogliamo. Una sera si ritrovano, fanno una rimpatriata e vanno a bere qualcosa, vanno al ristorante a mangiare e bere qualcosa. In questa serata si rendono conto che, lasciandosi anche un po' andare, si sentono anche meglio, ridono di più, riescono a interagire anche meglio con gli altri, avevano bisogno di spezzare un po' la routine noiosa della quotidianità. Solo che questa serata dà lo spunto ad uno di loro di andarsi a leggere una teoria di un filosofo psicologo norvegese, Skarderund, che potete andarvi a trovare, che dice praticamente che nel sangue umano mancherebbe uno 0,5 di alcol, con una gradazione di 0,5 di alcol nel sangue umano, riusciremo tutti a vivere una vita migliore. Una gradazione continua, costante. Che cosa succede? Che questi quattro amici, quattro signori, nel cast c'è Mads Mikkelsen, molti di voi lo ricorderanno per la serie su Hannibal, su Giovanni Hannibal, ma non solo, perché gli altri membri del cast sono anche attori che avevano partecipato, se non sbaglio, al film sempre di Thomas Vinterberg, mi piace molto questo regista, devo dire. L'ho riscoperto con Il Sospetto, film del 2012, in cui si parla di un caso di stupro, un falso caso di stupro, di violenza sessuale a scuola, e quanto un semplice sospetto possa cambiare la vita di una persona senza avere le prove di un qualcosa che ha fatto. Quindi vi consiglio di recuperarlo, se ancora non l'avete fatto, c'è sia Mads Mikkelsen che anche gli altri protagonisti di un altro giro. Dicevamo, uno di loro prende in mano questa teoria e propone agli altri, sono tutti insegnanti nella stessa scuola. Uno insegna educazione fisica, quindi allenatore anche degli sport che si fanno lì a scuola, c'è lo stesso Mads Mikkelsen che durante le sue lezioni, le sue lezioni inizialmente sono molto noiose, il regista ci fa vedere la loro vita prima di intraprendere questa specie di esperimento, perché poi ho apprezzato molto l'originalità di questo film, quindi il fare una specie di esperimento su un caso studio, e decidono di iniziare con un tasso alcolemico nel sangue di 0,5 e di bere soprattutto dalle 8 di mattina alle 8 di sera, e quindi non oltre l'ora di cena, se vogliamo, ma appena svegli, sì. E questa cosa mi ha lasciato veramente di stucco, perché ho detto, no, oddio, quindi a prima mattina appena svegli, vedevi queste scene che mi ha fatto anche venire un po' da vomitare di loro che di nascosto si riempiono il bicchiere di vino, oppure la vodka. E durante il giorno a scuola si riempiono le borracce con l'alcol, mischiandolo con l'acqua, quindi, diciamo, la cosa che mi ha lasciato un po' così è che come fai tu insegnante o tu alunno a non accorgerti anche della puzza, no, all'odore dell'alcol, però diciamo che avevano iniziato con qualcosa di soft, quindi i primi giorni ti fa vedere che loro sono euforici, sono durante le elezioni, sono lezioni bellissime quelle che fa lui, che fa Mikkelsen e questi ragazzi che sono attenti, partecipano e sono anche contenti di come si è diventato lui e anche in famiglia fa vedere che ci sono delle ripercussioni positive di questi signori, se non sbaglio tutti hanno famiglia tranne uno che ha un cane invece, un cane e ha la sua barca e chi è l'allenatore, l'allenatore a scuola. E praticamente all'inizio fa vedere che è tutto bello e ce vanno sotto perché come fai a, diciamo, mantenerti? Perché poi la cosa divertente è che dopo tot ore durante la giornata ognuno di loro faceva l'alcol test di nascosto a scuola per vedere a che livello, a che gradazione stava, si andava troppo su, troppo su o troppo in basso e doveva comunque continuare a bere perché comunque dopo un po' lo si smaltisce l'alcol. Quindi diciamo la teoria di questo filosofo è che con 0,5 di alcol viveremo tutti una vita migliore. Chi te c'è manna, no? Hanno pensato loro. E approfittando di questa cosa loro c'è da dire che avevano detto tutto alle famiglie, quindi comunque le mogli, le varie mogli sapevano quello che stavano facendo, però cominciano ad andarci sotto nel vero senso della parola, comincia la dipendenza perché poi, parliamoci chiaro, l'alcol è dipendenza come una droga, no? E cominciano ad alzare un po' il tiro, quindi cominciano ad assumerne di più, fanno anche diciamo una sorta di scommessa su dove possono arrivare con questo esperimento. E insomma, durante il film io ho avuto la sensazione un paio di volte, perché poi fanno ridere certe scene, sono goliardiche, nel senso che vedi loro che stanno a scuola palesemente brilli e che parlano con le persone, ma sono tutti altici e col sorriso stampato in faccia. Però c'è da dire che quando iniziano a dire ragazzi possiamo fare di più e quindi possiamo alzare il livello di alcol nel sangue, ho subito pensato qualcuno si fa male perché poi è una cosa che non riesci più a controllare, no? E diventa sollefazione. La cosa bella, senza spoilerarvi il finale, la cosa bella di questo film sono stati sicuramente le interpretazioni dei quattro protagonisti, dei quattro attori, in particolare di Mads Mikkelsen, anche nel rapporto con la moglie e con i figli quando torna a casa. E diciamo la volontà di queste persone di dare una svolta alla propria vita, alla propria monotonia e quotidianità, in un modo però che ovviamente non è la soluzione all'infelicità. Questo film vuole celebrare la vita. Avevo inizialmente citato Thomas Winterberg che quando è andato a ritirare l'Oscar per il miglior film internazionale ha fatto un discorso ricordando che pochi giorni dall'inizio delle riprese di questo film la sua figlioletta è morta in un incidente stradale. E è stato sicuramente difficile, è un discorso che mi ha veramente commosso e lo abbiamo anche pubblicato sulla nostra pagina Fage Network su Facebook e Instagram. ma molto colpito perché poi lui ha aggiunto doveva essere un film che celebrassi la vita ed è proprio quello che fa perché poi ti fa capire che nemmeno provare un esperimento del genere ma nemmeno essere distaccati dalla realtà perché poi fondamentalmente l'alcol è quello che ti porta a fare non è la soluzione ai problemi della quotidianità, della monotonia, dell'infelicità non è quello, perlomeno all'apparenza sembra una felicità momentanea. L'alcol è quello che ti dà quando uno sta a brillo, è una spensieratezza, una leggerezza di cui tutti e quattro avevano bisogno e poi ci sono queste scene che mi hanno fatto morire da ridere quando iniziano a ballare sulle note di Waterlife che è una canzone che è azzeccatissima per questo film, l'ho apprezzata tantissimo, infatti strano non fosse anche candidata come miglior canzone originale perché ci sta benissimo e poi Mars Michelsen, grandissimo attore che ho apprezzato tanto, mentre balla questa canzone sul molo con tutti i ragazzi, i loro studenti poi è bellissimo, sono bellissime poi le inquadrature in cui loro si mescolano a questi gruppi di studenti che stanno per finire le superiori e che vanno a festeggiare la fine della scuola, quindi bevendo e divertendosi ed è un po' quello che volevano fare questi quattro insegnanti, un po' sentirsi ragazzi e tornare giovani, ma purtroppo l'età, il tempo non si può fermare e credo che ogni età poi vada vissuta con le infelicità e le felicità che ci sono e bisogna anche adattarsi e reinventarsi in una specifica età della vita. Io vi ringrazio, vi chiedo di iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace per aiutarci a crescere e a darvi il nostro punto di vista su tutti i film e le serie tv che stanno uscendo anche in Italia e io vi do appuntamento al prossimo video e quindi alla prossima recensione. Ciao!